...pera cibo, più per me... Angela è morta... ...e non siamo mai stati di mano... ...ci' ha come si sa conoscendo... ...quà non ci seguono le mani... ...quindi... ...quindi quello che devo fare... ...ovviamente è il servente... ...visita il primo annale... ...ma io farai andare... ...ma io... ...prego di mettervi il proprio... ...ma io... ...ma io... ...주 ho un animale più avanti! ...uno non è più no? ...no, ma io cosa che non prenderevo è vero! ...dai... ...andiamoci un po'... ...ce non possiamo fare? ...quindi un po'... ...fonditi un uomo che non ci ti facciamo anche qua... ...poi non siamo finiti... ...se va da tutti i treventi... ...e domani no, non cibo! Che cosa hai rischiato? Ma voi siete... No 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 no! guarda quanto pubblico! La peccolina Va bene? Sembra un uomo? Sembra un uomo? Sembra un uomo? Buono per tenere la pasta La peccolina E trezzo, e trezzo pp значimo La peccolina È un bravo Molto uomo Spondi Qui Per Cri E Se vola Vado Sì Vado 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 Non penserei che non ti mi alza tutto il mio posto che sei una patata No! Esci da questo corpo satan E' una vacca in un momento un po' C'è una patata E' una vacca un po' sbaccata Va bene Va bene E' un po' piacere anche così Magari ci sono quelle ragazze che si agitano un pochino E' vacca 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 C'è una vampa Vacca le pecorine Le pecorine Mi piace eh E' la professionista si vede Vedevano l'ora di fare Ore e ore in studio a fare pecorine, lo so Le pecorine Re pre ne siamo Porci por Porci por Porci por Sopra il letto di mia zia tutto si può fare Ok? Ultimo domani ragazze, concentratevi Sopra il letto di mia zia Ia 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 ho Raggiungo grandi prestazioni Io vi tromberò Come un riccio Questa sei da tu Monica? Ok la versione del riccio l'ha fatta Monica Che non fa così Sentiamo Angela Non lo so come fa il riccio Eh 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 Trovendo poi i diri così ti regalo il cibi Eh eh Papà Piero Squit, 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 squit Squit Ma no Come squit Mi hai suggerito tutto squit Quello che fanno le donne sui porn E' vero c'è anche la categoria squitting Vedi? Squitting Allora E' un pokemon lo squitting C'è una R di differenza Scusate, scusate veramente Non è squit Non è neanche quella cosa che ha fatto Monica non so cosa fosse Eh A meno che non ha Hai doppiato qualcosa dei pokemon Tu No I porkemon Allora se volete c'è la chiamata a casa Per sapere come fa il riccio Va bene Chiamiamo casa allora regia Se mi mette in linea con il ricciologo Speriamo Non dovremmo disturbare A pomeriggio Pronto? Buonasera Lo disturbiamo? Pronto? Pronto signor Ricci? No Signor Ricci veramente Io sono Undestined Efrindel Tork Il più Undestined Efrindel Tork Se non mi conosce Mi spiace Sono il più grande esperto in ricci Ah va bene anche lei comunque Non mi chiamo ricci di cognome Era una mia età che mi chiamassi ricci di cognome Può essere un po' Trova Va bene Comunque sa come fa il riccio? Assolutamente sì Bene allora ci sono qua due ragazze bellissime Comunque Devo darmi la mosso perché ho il Nesquirt sul fuoco Cosa? Il Nesquirt Cos'è il Nesquirt? Una nuova bevanda Nestlé Un bicchiere Pulvere di cacao Infila due dita Un premio verso l'alto Agita velocemente E come per magia le schizza in faccia Ma voi vogliamo sapere come fa il riccio? Come fa il riccio? Lo sanno tutti tranne le sue ospiti La cosa mi delude parecchio Così il riccio quando si accoppia Ciò accade almeno 845 volte l'anno Dall'indroma con un riccio Esattamente questo verso Ma Carlo dice poi Siamo così mingherlino ma è un cazzo Ah sono i papiri Scusami Non parla il riccio Fa solo i versi Slinguami Siffredami E ti gesto Ma Carlo dice poi Castro se sono così Io gli insegno il mio nome e ti faccio un allevamento Adesso io ho un piccola curiosità Volevo sapere se Monica nella tua lunghissima carriera Hai dovuto mai doppiare porno? Morizzo Sì io penso che tutti i doppiatori abbiano doppiato un po Bene tu sei avvantaggiata Sono anche scappata però E' di qui che hai iniziato la tua carriera Vero? Beh sì Guarda che modulari diversi In fiati è difficile Eh vabbè Se qualcuno ti avrà una buona mano Più di uno Più di uno Pure lo dici anche Angela Quindi se non avete capito vi faccio lo schifo Aspetta che posso Scusate vi interrompo un attimo Non ho mai capito questa cosa Dei film porn non doppiati Che tra l'altro è una cosa orribile Comunque vabbè Lo penso io Quando ci sono quelle robe tipo Succhiate Lingue Succhiate il pollice Ma non c'è Non è il b-sex È molto Ci sono dei campioni che voi Scacciate Campionatori Per piacere possiamo non entrare nei dettagli Grazie Come disse le proste Vabbè Hai a che fare con una professionista Quindi la lotta sarà dura Però io so che Lei è abituata a fingere Tu invece potresti anche Se vuoi Tu di mano mano io ti aiuto A fare una cosa originale No vabbè Vabbè Allora Questa è Davide contro Golia praticamente Comincia La professionista Monica Ward